È ripreso in questi giorni il processo ai danni della Mitteni, l'azienda chimica di proprietà della Wellcome Consediatrissino chiamata a difendersi contro varie accuse di danno sanitario e ambientale. La testimonianza del maresciallo maggiore del NOE di Treviso fotografa una grave situazione a cui sembra, secondo le dichiarazioni riportate, fossero in molti ad esserne a conoscenza. Mitteni era a conoscenza delle problematiche di rischio sanitario e ambientale collegato ai passi della presenza delle sostanze plecorate nella falda acquifera sottostante il sito industriale. Mitteni non ha mai comunicato il fenomeno inquinante agli enti preposti. Lo ha ribadito nella sua testimonianza il maresciallo maggiore del NOE Tagliaferri durante il processo ripreso proprio in questi giorni presso la Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza dopo la pausa estiva. Stando a quanto ha dichiarato dall'investigatore Mitteni che aveva nella propria disponibilità tecnologie e informazioni adeguate a rilevare e analizzare la presenza di FAS, si è limitata invece ad adottare misure non risolutive e non interdittive nella propagazione della contaminazione con la mancanza di qualsivoglia autorizzazione funzionale alla bonifica.